Nella giornata del 26 marzo in Puglia, su 968 test per l'infezione Covid-19, sono risultati positivi 89 casi, di questi 12 in provincia di Foggia, dove salgono a 305 i contagiati in totale. Sono 7 i casi positivi di infezione da coronavirus a Lucera. Per evitare assembramenti, come chiesto da Tuto, la giunta risposta è immediata da parte dei direttori delle poste italiane, i quali sono state rivolte delle ordinanze. L'ufficio centrale di Via Firenze, infatti, ha attivato sei sportelli, mentre, come richiesto, è stato riaperto l'ufficio di Piazza San Giacomo. Tutto questo ha consentito così di non avere più la lunga fila dei giorni scorsi all'esterno dell'ufficio postale. In ogni caso, si consiglia di recarsi alla posta solo per servizi necessari, come per le scadenze e urgenti. È stata confermata la notizia di numerosi contagiati tra ospiti e operatori sanitari presso la RSA San Raffaele di Troia. Gli anziani, che non sono risultati contagiati da coronavirus, saranno ospitati presso l'ospedale Lastaria, che è un ospedale no-Covid. L'iniziativa di solidarietà è stata annunciata dal sindaco Antonio Tutolo. Si tratta di una raccolta di generi alimentari di prima necessità, destinata alle famiglie, che sono in serie difficoltà economiche, che partirà dalla settimana prossima. A breve saranno, infatti, comunicate le modalità con le quali, in grossi e attività commerciali, potranno donare alimenti di prima necessità a chi ne ha bisogno. Nuovo traguardo per il comitato Io sto con il Lastaria, che raccoglie fondi a favore dell'ospedale di Lucera. È stato, infatti, consegnato alla presenza del dottor Franco Mezzadri, del sindaco Tutolo e di Dario Gagliardi, rappresentante del comitato, il materiale protettivo per gli operatori sanitari del presidio lucerino, acquistato grazie alle donazioni e che permetterà loro di svolgere la loro attività nella maggior sicurezza possibile. Grazie